Buonasera Massimo Polidoro Allora, spesso leggiamo sul web delle notizie clamorose che poi risultano essere delle fake news, come si dice però la notizia rimane, non viene cancellata o smentita In effetti dipende un po' dalle notizie Ci sono bufale di tutti i tipi sul web Ci sono quelli che dicono di credere alle fate quelli che parlano con gli extraterrestri quelli che credono alla terra piatta quelli che dicono che non siamo mai andati sulla luna In generale, se queste informazioni, per quanto siano sbagliate siano fraintendimenti o siano false proprio completamente se non creano dei danni, se non fanno del male non c'è poi un vero motivo per rimuoverle Sì, però i giornali sempre sono tenuti a rettificare a smentire se pubblicano delle notizie sbagliate Anche se ci sono certi giornali che a volte mettono delle vere e proprie bufale in prima pagina perché sanno che venderà più copie la notizia clamorosa e poi la smentita magari la troviamo dopo qualche giorno a pagina 40 in un trafilettino Comunque c'è sul web invece niente Sul web si sta cercando di mettere delle avvertenze per esempio in cui si cerca di avvertire che certe informazioni potrebbero non essere fondate in particolare per quel che riguarda la salute Ma c'è un'altra cosa che non viene data mai la data Non viene messo il momento in cui una certa dichiarazione viene fatta E anche nel riguardo di certe persone che nel frattempo possano aver cambiato opinione A volte questo secondo me sarebbe da correggere Verissimo, questo succede soprattutto sui video, magari YouTube perché lì non ci sono date se non quelle della pubblicazione ma non si sa quando è stata fatta Per la salute c'è una regolamentazione Insomma, diciamo che si cerca di togliere le bufale più gravi, più pericolose non appena vengono pubblicate il caso recente durante il lockdown c'erano persone che sostenevano di aver trovato rimedi di ogni tipo per il coronavirus e che diceva addirittura di aver scoperto che bevendo la candeggina si guariva Una cosa tremenda che è stata rimossa ma non abbastanza velocemente Ci sono state persone negli Stati Uniti che sono finite il pronto soccorso Quindi neanche lì c'è una regolamentazione Senta, c'è qui un grafico che lei ci ha portato Sì Che ci mostra il mondo nascosto del dark web Cioè il web buio, nero, non visibile Si vede un iceberg che spunta Esatto E poi neanche si riesce a leggere quello che c'è sotto Appunto, perché è oscuro Qui è quello che ci mostra questo grafico Ci fa capire perché certe cose che sono illegali Addirittura criminali Non possono essere rimosse tante volte La punta dell'iceberg è dove noi navighiamo abitualmente I giornali che leggiamo Le ricerche che facciamo Poi la parte più nascosta, più grossa È quella che contiene informazioni private E quel 96% Esatto, qui ci sono per esempio i documenti legali Le situazioni bancarie Tutte quelle cose che non possono essere pubbliche E sono moltissime Poi però c'è un'ultima parte più piccola Che è proprio il dark web Il web oscuro Dove si svolgono delle attività veramente illegali C'è chi traffica in droga Chi vende armi Cose veramente criminali Ma le autorità non possono fare niente? C'è stata in realtà un'operazione della Guardia di Finanza Qualche tempo fa Che ha portato alla chiusura di uno dei più famosi black market Come si chiamavano E si chiamava Berlusconi Market Anche se non c'entrava niente Berlusconi In questo caso vendevano di tutto Dagli stupefacenti alle armi A strumenti per attacchi web E però sono stati arrestati tra italiani che lo gestivano Ma perché esiste una cosa del genere Dovrebbe essere considerata illegale? Il fatto è proprio sta qui Noi siamo portati a pensare O le cose sono bianche o sono nere Sono bravi o sono cattivi A volte non è proprio così Nel senso che certe cose illegali Normalmente In certi paesi potrebbero essere Sì illegali ma non illecite Nelle dittature per esempio Poter accedere a informazioni libere È proibito E allora nel dark web Visto che l'identità è nascosta Si può fare Si possono leggere i giornali degli altri paesi per esempio Insomma la realtà è sempre più complicata di quanto appaia Grazie Massimo Polidoro